Jerry Smith Opicuo, 56 la testiera da Cornel Tobolevsky e da Fiby Forever dei Folletti da Fiby Forever proprietario ad allevatore e società speciale Bosco Incantato, partono con zero penalità il piteggio di Ciacche della Bassanella, 133 105, 17 il punteggio per punto grazie a tutti grazie a tutti sono zero le penalità dopo la seconda prova, totale delle due prove, zero grazie a tutti